Cari amici, oggi vi voglio presentare le mie amiche galline. Questo è Giorgio il maschio, vedete com'è bello? Ha la cresta a rosa, si dice. Come vedete la livrea dei maschi è più colorata di quella delle femmine. Questa è Antonia. Antonia è una gallina a collo nudo. È una razza misteriosa, sembra che venga dalla Transilvania, un posto mitico. Queste sono le due gemelle, Rosmunda e Rossella. Anche loro hanno come il loro fratello, il marito Giorgio, la cristal rosa. Questa invece è Cristina. Oggi Cristina ha un'aria molto strana, la vedo tutta gonfia e poi c'è questo strano verso. Che succede Cristina? Non è che stai speranzando di diventare mamma. Infatti quando diventano così, quando hanno questo aspetto, le galline diventano chiocce. È come un calore che le porta a covare le uova per far nascere i pulcini con il loro calore. Infatti Cristina ha proprio l'aspetto di essere chioccia. Ma dove avrà nascosto il suo nido? E poi c'è un'altra sorella che adesso non vedo, Rossella. Sì, queste sono le due sorelle, Rosmunda e Rossella. Sì, manca Rosa Maria. Rosa Maria ha lo stesso colore di Rosmunda e Rossella, però ha la crista semplice, come Antonia. Forse sarà deponendo le uova, perché loro depongono le uova in questa vecchia serra. Ecco qui, ecco qui il loro nido. No, non c'è nulla, non è qui Rossella. Vediamo dove è andata. Forse una volta l'ho vista uscire da, dietro queste piante. Forse si è creata un nido dietro queste piante. La piccola Rosa Maria. Ecco qua, infatti. Eccola. Ma anche lei ha lo stesso verso di Cristina. Guarda, anche lei è diventata chioccia. Infatti le sue uova sono caldissime. Ma che fammi venire? Oh, non è. È molto gelosa del suo nido. Ma mi da pure una beccata se provo a muoverla. Su, fammi venire le tue uova piccole. Wow, quante. Fammi beccare, cazzo. Oh, guarda come difende il suo nido. Oh, le sue uova possono diventare caldissime. Quante cose mi sta covando. Non vuole essere risparmata nella cova. E' molto affezionata il suo nido. Non vuole lasciare neanche un attimo. Hai ragione, Rosa Maria. Guardate come ci tiene il suo nido. Lo difende con cura. Sta protestando, giustamente. Non vuole essere disturbata dalla cova. La nostra Rosa Maria ci farà tanti pulcini. E vediamo invece Cristina dov'è. Qui è il nostro gallo Giorgio. Questa è il rossella. Vediamo se Cristina torna a covare adesso. Questa è il rosomonda. Cristina cerca di fare il bagno nella polvere, nella terra, perché le dà molto calore. Quest'uovo era fuori dal nido. Vediamo se vogliono avere un po' di ovetto. A Giorgio sembra strano che Cristina sia diventata chioccia. Cristina è molto prepotente. Vediamo dove sta il nido di Cristina. Secondo me sta all'interno di queste frasche, perché una volta ho visto Cristina ad entrarsi in questa zona del giardino, tra queste alte erbe, visto che si veniva a nascondere da questa parte. Secondo me il suo nido deve essere da questa parte. Un bel nido tra qualche giorno mi sa che me la vedrò uscire fuori con un'inviata di piccoli pulcini. Credevo che fosse di qua, ma non vedo. Eccolo qua. Eccolo. Ha poche uova però. Sì. Pensavo che dovevano essere molte di più. Sono poche le uova di Cristina. Secondo me non le ha covate bene. Infatti suona vuoto. Che fate curiose.